Tappa teatina per le finali regionali di Miss Mondo, il concorso organizzato dall'agenzia 4Event di Camillo del Romano. 15 le Miss in gara provenienti da Abruzzo e Molise che si sono contese il titolo valido per l'accesso alle finali nazionali in programma a Gallipoli dal 1 al 18 giugno prossimo. La fascia di semifinalista nazionale è stata vinta da Elisa Scaricaciottoli, studentessa di Ortona, mentre al secondo posto si sono classificate ex equo Giulia Cataldo di Miglianico e Valentina Morelli della provincia di Sernia. Terzo posto di Miss Mondo Gilcagnè per Ilenia Ciccocioppo di Lanciano. Un altro ex equo per il titolo La Miss del Web, assegnato con i voti pervenuti via internet, è stato vinto da Federica Del Conte di Altino e Sofia Di Giacomo di Chieti. La giuria, presiduta da Monica Berardocco, coadjuvata da Anna Mazziotti della scuola di ginnastica Armonia d'Abruzzo, che ha sfornato numerosi talenti, anche olimpici, ha assegnato l'ambito titolo Miss Mondo Chieti ad Alessia Cellucci di Chieti, una veterana delle sfilate della 4Event. Alla presenza di un pubblico coinvolto ed entusiasta, il pomeriggio non è stato dedicato solo alla moda, ma anche alla ginnastica, con l'esibizione di alcune ginnaste della scuola Armonia d'Abruzzo, che hanno dato vita ad accattivanti coreografie dinamiche e ritmate. Un intermezzo musicale è stato affidato alle voci di Pietro Marchesani e Daniel Mincone, apprezzati dal pubblico, che ora si prepara ad assistere alla finalissima di Miss Mondo Abruzzo, che si terrà domenica 29 maggio all'Aquila, all'auditorium del Parco Renzo Piano, alle 18. L'evento eleggerà la nuova Miss Mondo Abruzzo 2022, che nella scorsa edizione ha premiato Lorenza Mammarella di Chieti, attualmente impegnata nel corpo di ballo del programma di Rai 2 Made in Sud.